E mi piace, mi piace, mi piace Noi come Rialziamo Torre Grotta stiamo facendo nient'altro che quello che avevamo promesso la sera in cui abbiamo perso cioè non fermarci e andare avanti è una sfida, è forse la sfida più bella e più avvincente cioè quello di dimostrare ai nostri compaesani che non erano solo parole che ci credevamo veramente è un percorso tortuoso, perché no? Perché qui non si è mai fatto qui le liste solitamente nascono e crescono e poi eventualmente spariscono solo vicino alle elezioni No, noi stiamo andando avanti e con la partecipazione, come questo esempio di progetto con la quale cercheremo di coinvolgere il maggior numero di cittadini nello stilare questo elenco di libri per la biblioteca pensiamo che con la partecipazione un piccolo passetto di quel desiderio che noi chiamavamo Rialziamo Torre Grotta si possa concretizzare Presto alla biblioteca comune di Torre Grotta arriveranno tantissimi libri grazie al progetto di democrazia partecipata del gruppo Rialziamo Torre Grotta che uscì sconfitto con i numeri dalle ultime elezioni ma non con le idee 7.500 euro da spendere in libri o attrezzature per migliorare la biblioteca con il coinvolgimento di scuole, associazioni e semplici cittadini Abbiamo pensato a questo progetto di democrazia partecipata sull'acquisto dei libri per la nostra biblioteca comunale perché abbiamo constatato che quasi il 90% dei libri della nostra biblioteca sono di pubblicazione antecedente al 2000 e di fatto da anni ormai il servizio, la fruizione della nostra biblioteca è ferma al palo quindi sappiamo che acquistare dei nuovi libri sarà il primo passo per riattivare la biblioteca comunale Come pensiamo di farlo? Coinvolgendo le persone nel solco proprio della democrazia partecipata creeremo assieme anzitutto all'istituto comprensivo di Torre Grotta quindi agli studenti, agli docenti e anche alla dirigente a cui daremo una bella fetta di questo budget per dei nuovi titoli dopodiché coinvolgeremo per avere titoli di libri da acquistare tutte le associazioni socioculturali di Torre Grotta quindi chi si occupa di musica, chi si occupa di teatro e quant'altro e ovviamente, cosa non secondaria, tutti i cittadini che avranno l'interesse il desiderio, la passione di suggerirci dei titoli saranno bene accetti creeremo un unico elenco che ovviamente noi che abbiamo proposto il progetto al Comune selezioneremo per evitare doppioni e ripetizioni e dopodiché doneremo di fatto questo elenco al Comune con questa finalità anzitutto rinverdire quello che è il patrimonio librario della biblioteca affinché questo possa essere il primo passo vero, concreto per la riapertura della biblioteca comunale che poi chiaramente competerà all'amministrazione